50 centesimi sono pochi come mancio e il parcheggiatore abusivo gli rega l'auto. Non atteso nemmeno che il proprietario del mezzo si allontanasse, lo ha fatto sotto i suoi occhi. L'episodio giovedì sera nel parcheggio davanti alla stazione di Lecce, dove parcheggiatore abusivi, generalmente stranieri, si dividono alle zone. Per l'autore del nanneggiamento, un senegalese di 38 anni, tra l'altro senza permesso di soggiorno, è scattata una denuncia. Dirigeva il traffico davanti alla stazione, indicava agli automobilisti i parcheggi vuoti da occupare. La vittima, un uomo a bordo di una Megane, ha lasciato l'auto in uno spazio indicato proprio dal senegalese che con arroganza, ha raccontato la vittima alla polizia, gli ha chiesto dei soldi e che dopo aver ricevuto una moneta da 50 centesimi, ha atteso che si allontanasse un po' e gli ha rigato allo sportello dal lato guida. Il proprietario se ne è accorto e è tornato, ha chiesto spiegazioni senza riceverne. A quel punto ha chiamato la polizia. Gli agenti delle volanti hanno controllato il senegalese e lo hanno denunciato.